Consiglio Comunale a Maratea è trema la maggioranza del sindaco Mario Di Trani. Le picconate più forti all'esecutivo non arrivano dalle opposizioni, bensì dall'assessore all'ambiente Virgilio Lammoglia. Una seduta, quella che si è tenuta ieri pomeriggio, con soli tre punti all'ordine del giorno. A provocare la crepa all'interno della maggioranza, l'adozione di una variante al programma delle opere di completamento ad un complesso turistico alberghiero della cittadina. Punto all'ordine del giorno non votato dalla moglia, che ha preferito dunque astenersi dall'esprimere la sua opinione. Nel commentare la sua posizione, Lammoglia ha ribadito di aver rispettato il suo elettorato e quelli che il giorno delle elezioni hanno scelto di votare la lista per Maratea. Il programma elettorale, ha ribadito l'assessore, aveva ed ha tra i suoi punti cardine una posizione contraria alle nuove cubature. Pertanto, ha spiegato Lammoglia, non ho fatto altro che confermare la mia posizione. Il sindaco Mario Di Trani riferisce di aver fatto quanto stabilito con tutta la sua maggioranza. L'errore politico, ha puntualizzato il primo cittadino di Maratea, è stato commesso dalla moglia, che dopo tre anni nei quali ha accompagnato i provvedimenti legati al punto discusso in consiglio, ieri invece ha ritenuto di dissociarsi dal votare il punto. A contestare poi con voto negativo il provvedimento portato in consiglio da Di Trani e suoi, anche il capogruppo d'insieme per Maratea, Carmelo Ferrara. Approvata è una variante che farà costruire volumi e tipologie di fabbricati, certamente non consoni al territorio e alle bellezze di Maratea. 30.000 metri cubi, numeri spaventosi che danneggiano l'ambiente.